Un 165esimo anniversario quest'anno si svolgerà nella città di Fano, perché? Nella grande città di Fano, perché dopo Pesaro e Urbino ho ritenuto opportuno e doveroso farlo a Fano, perché Fano è la terza città più grande delle Marche, perché Fano ha un'estensione, una popolazione vivace, laboriosa, economicamente impegnata, dove c'è un commissariato che lavora per bene, lavora in modo professionale, dove tutto un contesto anche di monumenti fa sì che questo nostro compleanno possa essere vissuto nel migliore dei modi. Quale sarà il programma? Come si svolgerà la giornata? Il programma è un po' nuovo, quindi ci sarà una parte iniziale che verrà svolta all'esterno, con questa cornice di ragazzi, di studenti e con la rassegna allo schieramento delle nostre forze di polizia. E poi si svolgerà soprattutto all'interno del teatro, dove ci saranno le allocuzioni del messaggio del Presidente della Repubblica, del Ministro, del Capo della Polizia, del Prefetto e poi il mio discorso finale. Quella novità anche della nostra diretta TV? Con la vostra diretta TV che sarà assolutamente indispensabile, non fatemi questo tradimento, io spero molto perché voglio che chi sta all'interno deve poter seguire minuto per minuto la festa che avverrà all'esterno, che sarà una festa, una festa della Polizia di Stato, una festa per la cittadinanza e la collettività di fan. Una celebrazione molto importante quest'anno che, come ha detto lei, si svolgerà nel cuore pulsante della città. Sì, l'idea che il teatro sia aperto sempre a tutti, sapete che è per noi un motivo proprio di lavoro. E ospitare in questo caso la festa della Polizia in una ricorrenza così particolare ha ancora più valore, ma ha anche più valore pensando ai cittadini che insieme alle forze dell'ordine festeggiano questo evento. Ci saranno anche i bambini delle scuole, per cui ecco un momento di festa, ma anche un momento perché la comunità si senta ancora di più difesa e soprattutto unita in un momento così particolare.